Oggi ragazzi vi porto un nuovo case di Tremaltake, il Vue 380 TG. In realtà già avete visto il timelapse, è giusto anche parlarne per vedere un attimo nel dettaglio. Cosa offre questo case? È sì un dual chamber, è il solito design ad acquario, ma cosa ha di diverso dagli altri? Ecco, mo ne parliamo ovviamente durante il video. Ciò sembra comunque una build appunto del timelapse, ma non ci focalizzeremo sui componenti tanto quanto. La qualità costruttiva, le caratteristiche, insomma, parliamo di questo case. E maggiori dettagli al riguardo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide a con l'introduzione, oggi vi parlo di un nuovo case di Tremaltake, ve l'ho detto in introduzione, il Vue 380 TG. V'ho già portato il 270 TG, sono la linea diciamo di case, stanno andando di moda questi vetri attaccati, con visione a 270 gradi sui componenti all'interno appunto del case. Quindi sì, non è l'unico case con questo stile, però c'è una cosa particolare secondo me, ma in generale non questo, ma tutte le case di Tremaltake, ovvero di recente, stanno pubblicando tanti colori, non solo il bianco e il nero. Infatti questo case è disponibile nella colorazione idrange blu, nonché mecha green. Due colorazioni che non c'è solo il case, ci sta pure il dissipatore e ventole. Gli alimentatori, quindi l'alimentatore non so tutti, però ecco, l'idrange blu ci sta perché è una colorazione speciale per l'anniversario di Tremaltake. Poi sul resto del case comunque ha una qualità costruttiva interessante, già per l'anticipo superiore ad alcuni competitor che ho già testato e avete visto il video qui sul canale. E poi ha comunque una durazione di 4 ventole, qualità costruttiva interessante, ma insomma i vari dettagli li svisceriamo durante il video. Prima di attaccare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, bottoncione rosso e creaturo trovate qui sotto, like, commentino, fatemi sapere magari i prossimi case che volete vedere sul canale. Ve ne porto comunque tanti, almeno 2-3 al mese ve li porto, quindi fatemi sapere che volete vedere. Link giù in descrizione per il canale telegram delle offerte, chat di gruppo e ovviamente quello per acquistare il case. Che già vi anticipo il costo è comunque in media al mercato, ovvero 110 euro circa, che per un case con questo stile e 4 ventole in dotazione più o meno siamo là. Ma detto questo ragazzi partiamo con l'unboxing, come variva, che scatola c'ha? Scatola semplicissima a color cartone, ce l'avete presente? Bravissimi quelli. Vettoriale del case, scritte varie, tra cui anche il nome del case, il T80TG e marchio di Thermaltake aperto. Notiamo subito che il case non è dentro del polistirolo, che poi fa casini, pallini, insomma è sempre un po' un impiccio, ma ci stanno dei gommoni. Non è la prima volta che Thermaltake utilizza questa cosa, piccola chicca, visto che i due vetri non c'hanno bordatura. Ci sta anche un paraspigoli, ok, di cartone rigido, che serve a protezione. Dei vetri. Ci sta anche il libretto delle istruzioni, ma insomma poi lo analizziamo dopo. Preso il case buttato sul tavolo, girato, insomma, attori dei gommoni, nonché la busta di plastica. Notiamo subito che è piccolino, non è grandissimo come case. Come misure 410x282x442 mm. Peso pro circa 7 kg, anche se è piccolino, perché comunque le materie utilizzate, a parte che non c'è plastica, tutto metallo, ma anche bello pieno, non è metallino del case da 50 euro, insomma. Quindi da quel punto di vista, come al solito, Thermaltake è sempre una garanzia. Vetri che possono sembrare senza viti, ok, quindi il tipico case free tool, che non servono cacciavite alti, ma in realtà non è così, o perlomeno lo è in parte. Infatti il vetro davanti, ok, proprio davanti inteso quello più piccolo e quello laterale, hanno quello davanti due viti e quello laterale una vite per tenerlo fermo, anche secondo me per non farli staccare durante il trasporto. Mi è capitato spesso magari di andare a tirare la pellicola dei vetri e ti rimane mano al pannello, perché appunto incastra e si tiene, per miracolo. Quindi tolte quelle due viti, in realtà poi quei pannelli di vetro sono a incastro. Il top del case invece ha due viti di dietro, ma quelle a dita, ok, che potete svitare tranquillamente senza cacciavite. E il pannello di dietro anche è a incastro, quindi diciamo quasi free tool, ok, comunque un par dei cacciaviti a portata, è meglio tenerli. Il top, visto che già abbiamo citato, non c'ha nessun filtro mesh, quindi non c'è niente di magnetico, ma in realtà se è così semplice toglierlo, e poi è fatto con forellini così piccoli che va bene così, insomma. E anzi, in top c'è sta pure il front panel, con il tasto d'accensione, ovviamente, due USB 3.0, poi ci sta l'AUX delle cuffie, nonché del microfono, quindi separati, tasto di reset e poi la Type-C. Type-C 3.2 Gen 2, quindi lato front panel. Ci sta sti pannelli però col front panel sopra, cavolo, ormai tutti ce l'hanno sulla scrivania, consiglierei di buttarlo sotto. Tanti brand mostrano iniziare a fare sta cosa anche perché chi lo mette più per terra il case? Per quello. Ho detto quindi vetrata, sì, bella, figheri, ma con questi pannelli a 270 gradi che vedete tutto dentro, e appunto zero plastica, non ci sta nulla. Anche nella parte di dietro, se proprio devo trovare una piccola nota dolente, più che altro per il costo del case, perché altre anche meno costosi ce l'hanno, le porte Pitch Express è un case ATX, quindi abbiamo 7 Pitch Express, ma sono quelle saldate, quindi che poi piano piano le strappi, e come il mio solito consiglio, toglietele prima le montate alla mobbo, e ci ho fatto un video dedicato alle cose da fare per assemblare il PC, ecco, quando trovate sto case e stacchiate prima quelle, e di solito la seconda la terza, se avete una scheda video diciamo a due slot, tanto valeva farle quelle riutilizzabili, quindi con la vitina invece che queste saldate, però di solito stanno sui case un po' più economici, peccato, però ecco, non è l'unico, anche il master box di Cooler Master, sempre 80-90 euro costava, e sì, un po' più economico, però c'aveva anche lui questa cosa qui. Al contrario, il Vue XT di Fantec ce l'aveva a vite. Esteticamente comunque di fuori è tutto bello mesciato, perché il pannello di dietro, quindi quello che va a coprire, insomma, l'alimentatore eccetera, non c'ha una griglia soltanto davanti all'alimentatore o davanti alle ventole, no? Perché c'abbiamo comunque la parte delle ventole al fianco alla mobbo, no. Full mesh e ovviamente senza un filtro vero, ma hai i fori piccolini e sul metallo, anche sulla parte davanti troviamo questa stricetta mesciata, ok? Quindi diciamo che l'iFlo è ben studiato, comunque è stato fatto in maniera tale che prenda AIA un po' da tutte le parti. Iniziamo a parlare però dell'interno del case. Prima la parte davanti, essendo dual chamber, poi anche quella dietro. Nella parte davanti lo spazio non è tantissimo, bisogna essere onesti, comunque il case è bello compatto. Ci abbiamo 415 mm per la GPU, lato CPU nel caso mettete un dissipatorattore, che su StiCase lo vedete raramente, 160 mm. Quindi bisogna anche, secondo me, fare un po' attenzione, c'è dei custom un po' troppo giganti che per la scheda video è mia supposizione, non ho provato, però ecco l'XT che ci ho messo, delle Astrak Phantom Gaming, è già bella piazzata, comunque non c'ha gravi problemi. Manteniamo la ventola da 12 cm nella parte posteriore, cosa simpatica, perché questi ad acquario spesso non ce l'hanno e quindi è piccolo ma non troppo. Ecco, questa cosa però del piccolo fa sì che anche in bottom e in top abbiamo la possibilità di mettere solo ventole da 120 mm, quindi non c'è la slitta per passare alle 140 mm, anche se per metterne 2 invece che 3, non c'è. Quindi anche i radiatori 360 nel bottom e nel top. Anche se nel bottom solo se fate custom loop, ecco che non è un case che si presta più che altro per il costo di solito. Se stai a fare un custom loop vai solo il prezzo con i case. Lateralmente invece potete mettere ventole da 120, 140, ovviamente 2 da 140 e dissipatori al liquido con i radiatori anche da 280, però non il 360, quindi ho 240 e 280. Dietro solo la ventolina 120 che già ci sta. Lateralmente ci stanno già altre 3 ventole e qui Thermaltek si è ingegnata. Sono con il telaio a vista, quindi non sono reverse come ventole, però ha cambiato gli adesivi. Non so se ci avete mai fatto caso, ma le ventole dietro sul telario hanno un tipo di adesivo con le specifiche, tensioni e quant'altro, RPM, e questi che hanno fatto un po' la stessa cosa hanno messo sulla pala, sulle pale dietro questo adesivo, mentre davanti hanno messo il solito adesivo che di solito sta sulle pale. L'hanno invertiti, però ecco non sono reverse. Ce l'hanno le ventole reverse, magari ci stanno le ct che non costano nemmeno tanto, io ce le avrei piazzate, però ovviamente. Si vede per questione di costi comunque mantenere 100 euro più o meno sto case, e anzi i case di Thermaltek vedo che spesso su Amazon poi tendono a scendere, tipo 270tg di recente è stato a 70 euro quando il prezzo MSRP era di 90, 85, quindi poi bisogna anche dare un'occhiata ad Amazon in giro i store che prezzo ottengono. Qui seguiamo lo spazio interno, ok? Quindi tra ventole, radiatori e quant'altro. Qualità costruttiva internamente che ve devo dire, ha fatto davvero bene, ci stanno un sacco di spazietti, gommini per il passacavi. Il case è compatibile con schede matri ATX, sì, ma soprattutto schede matri anche BTF, Project Zero, quindi con i nuovi attacchi nella parte posteriore o quelle di gigabyte che manco mai ricordo come si chiamano. Quindi è abbastanza anche moderno da quel punto di vista. Sicuramente è un po' compattino, poi dipende da quello che dovete fare. Non è per esempio come il Musetex che se metti una scheda matri ATX non c'è spazio sotto manco per far passare i cavi. Infatti qua passano da dio senza problemi, comunque è ben studiato lo spazio. Anzi, ho visto un video di un collega Elytra che ha portato anche questo case con l'Arctic Liquid Freezer, quindi in top anche un radiatore più grande, quindi non gli standard da 27, ma Arctic Ciaculata 38, non crea problemi con schede matri e RAM. Era giusto citarlo. Nella parte posteriore lo spazio è comunque tanto. C'è una cosa, c'è sto PSU piazzato in alto, ok? Non sta nella parte bassa e questo vi obbliga, tra virgolette, per non avere le unie a montare il backplate dei dissipatori prima di montare la mob sul case. Io ormai ho preso per prassi di montarlo prima sul tavolo, anche perché è più comodo, però è giusto citarvelo perché almeno, sennò i vatelli sono due le cose, o smontate di una scheda matri o smontate l'alimentatore. Per il passaggio dei cavi, ho detto, ci stanno un sacco di gommini, anche il cable management. Tra gli accessori ci stanno viti, ci stanno le fascette bianche, quindi comunque anche da quel punto di vista è ben dotato. Lo spazio non manca. Ci stanno poi le tre ventole, avevo citato prima. Ci stanno sì, ma non vi ho dato specifici eccetera. Più che specifici, vi voglio dirvi che hanno una connessione, che si vede soltanto quando aprite il pannone dietro, a tre pin. Quindi sono DC, non sono ventole PWM. Non ci stanno hub, ci stanno soltanto dei tripli attacchi, ok? Per attaccare le tre ventole laterali e poi l'altra, per cavoli propri. Sono comunque ventole a RGB con il cavo a RGB, quello tradizionale a tre pin cinque volte, insomma. E non c'è nessun hub appunto per controllarli, dovete per forza attaccarli alla scheda madre. Dunque c'hanno l'attacco a cascata che si rettono tra di loro. Quindi comunque esce un cavo soltanto. Nella parte posteriore vediamo anche una bella staffa, che serve per mettere gli SSD. Due SSD da 2.5, sulla stessa staffa anche un harddisk da 3.5 nella parte di dietro. Comunque diciamo che ormai montare SSD harddisk è raro, ok? Soprattutto su sti PC che sono showcase. Di solito si usano gli NVMe, prendi, li monti sulla mobbo e hai risolto. Che direi ragazzi, questo è il case a grandi linee. Vi parlo un attimo dei componenti che ci ho piazzato dentro velocemente, ma se volete vederli ecco, ci sta il timelapse. Ma soprattutto sono componenti, come al solito, rimediati. Tanto per far vedere una build assemblata. Comunque a tema è full white, perché abbiamo una scheda video 7900 XT Asterok Phantom Gaming White. C'abbiamo il dissipatore, che è il Thermaltek TH360 V2. Poi abbiamo come scheda madre, ecco questa è nera, però è viola, sul bianco ci sta bene. Quindi una Z790 Live Mixer di Asterok, che fa pandamma anche con la scheda video, perché c'ha degli inserti sempre viola. E CPU 13600KF. Voi dite perché Intel? Non ha senso andare su Intel. Appunto, ho detto, è rimediata ragazzi. Anche per alternarvi un po' dei componenti, se no vi piazzo sempre la mia B650 Gaming XRX col 7800 XTD. Cambiamo un pochetto. RAM Kingston Fury 7600 CL38, che in realtà non le regge mai nella vita, può essere così. Infatti stanno col profilo XMP, quello a 6800 MHz, e come SSD un Fury Renegade. Questa è la build, come alimentatore poi un Inert Max di F12, quello compatto, che su case è così. Comunque dietro c'è tanto spazio, però poi c'è la lagunetta, in un certo senso, meglio mettere questo un po' più piccolino, che ci stava bene, con i capi slivati bianchi. Insomma, questi suoi componenti la build, a mio avviso è uscita bellina. Il punto è che ovviamente non la replicherei, ok? Visto che c'è un processore Intel, è meglio andare sui IZEN ad oggi. Insomma, però questi sono i componenti. E nell'assemblaggio, come mi sono trovato? Bene, ragazzi. Cioè, c'è poco da dire, perché comunque lo spazio davanti, essendo un dual chamber, c'è. De vietro, c'è sta. Montando il dissipatore, nulla da dire, perché comunque lo spazio tra la mobile e le RAM è quello giusto. Scheda vietro, giusta nella lunghezza. Che vedevo dire? Forse soltanto nel cable management avrei preferito magari un hub. Avrei preferito, sì, soltanto quello, perché ecco, o con le pitch express che potrei utilizzarle, perché ecco, magari uno per meno che è meno esperto le va a smontare dopo, rischia di graffiare la scheda male. Però nel complesso, ragazzi, il case. Si presta. È molto semplice per assemblare. Ad oggi montare un PC è davvero per tanti. Una volta era un po' più per pochi, ad oggi pochi passaggi anche semplificato da alcune chicche, come potrebbe essere, che ne so, ecco, l'installazione della SSD NVMe che riducono i cavi. Insomma, tante piccole chicche. Per quanto riguarda le temperature, non ho fatto grandi test, non vi porto nemmeno, di solito, test perché come li confronti, so, valori a sé stanti. Vi posso dire che questa build, quindi con la 7900XT che sta più o meno in gaming a 65, 66 gradi e massimo 70. Il processore, ma nei picchi. Queste sono temperature più di piccole di AVG. Però si comporta bene, ma cambiano da componenti a componenti, fare paragoni o altro, è sempre difficile tra case. Quindi ve li cito, poi vedete voi che farci. E niente, vi ho detto tutto. A partire dall'unboxing, qualità costruttiva, ho fatto vedere i dettagli del case, com'è fatto, com'è non fatto, la build è uscita fuori. Probabilmente lascio a voi i pareri. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti e io vi posso dire che è un case che per 110 euro è acquistabile. Lo farei scendere un pochino, secondo me a 100 euro poco sotto è un best buy, perché vi dico, paragoni, il Vue 270TG costa un ventone di meno, ma effettivamente la qualità costruttiva è più bassa. Qui già alziamo il livello. Però non è tanto distante da una qualità costruttiva di un XT Vue di Phantek, per esempio. Comunque è più alta di un Musatex Y6 che ho portato di recente. Quindi comunque i prezzi sono lì, 80, 90, 100, poi qua c'è 4 vento, è lì 5, è lì 2. Però poi la morale della favola è che questi case sono abbastanza allineati e scegliere una qua è sempre difficile, quindi vedete quello che vi piace di più. Tipo qui abbiamo questo fronte che lo distingue dagli altri perché c'è la parte mesciata, anche la parte dietro è mesciata, qualità costruttiva è buona. Poi c'è il case che c'è la ventola in reverse, allora prendo quello. Vedete voi, io ve li porto, poi sta a voi scegliere quello che preferite. Insomma, fatemi sapere ne pensate nei commenti, magari lasciate un like, un commentino, insomma, iscrivetevi pure. E ci vediamo al prossimo video, quindi sono il vostro Davide dal piccolo Baby Yodo con la testa fruttuante, che è la mascotte del canale. E ci vediamo al prossimo video, ciao!